in collaborazione con Libreria La Parola un libro per ciascuno di noi Libreria La Parola Corso Mazzini, Figline Valdarno Ben ritrovati, siamo in mezzo ai libri quindi inizia adesso una nuova puntata di Word, il gusto della parola siamo ovviamente a Figline Valdarno alla Libreria La Parola in Corso Mazzini e anche in questa puntata quattro libri bellissimi da raccontarvi inizio subito io con questo libro di Steve e Ferre il libro delle meraviglie perdute chi sono Steve e Ferre? Sono due ragazzi un ragazzo e una ragazza molto conosciuti nel web e appassionati di videogiochi proprio grazie ai videogiochi hanno capito quanto è bella la creatività solo che nei videogiochi c'è un limite dato appunto dal dal mezzo tecnico mentre sulla carta non ci sono alcuni limiti alla propria creatività questo libro è ambientato nel futuro siamo nelle 2204 i protagonisti sono Gaia e Alex la città in cui vivono è una città ovviamente completamente diversa dalle città che conosciamo dove la tecnologia regna sovrana e i computer la fanno da padrone ma accanto alla città così così futuristica esistono le vecchie le vecchie città ed è vietato andarle a trovare andarle a visitare cosa che invece Gaia e Alex non fanno anzi loro vanno spesso in questa vecchia metropoli in questa vecchia città a cercare dei reperti e in una di queste scorribande Gaia trova un libro questo libro è un libro che parla di natura parla di animali parla di terre mai viste mai viste da loro ma che sono le nostre terre e si rendono conto di quanto hanno perduto di quanto nel loro mondo sia diverso è impossibile vedere animali vedere piante vedere il mare o vedere i deserti e così decidono di mettere questo libro in una capsula del tempo in maniera tale che possa tornare indietro e magari proprio nelle mani di un ragazzo del 2020 c'è una frase molto significativa che rassume riassume il libro ed è questa se è questo libro tra le mani è perché siamo riusciti nel nostro intento e non è ancora troppo tardi il nostro mondo nel vostro futuro è compromesso e ci rendiamo conto solo ora di quello che ci siamo persi il pianeta lì nel tuo presente ha ancora una possibilità orsi polari tartarughe marine ghiacciai voi avete ancora tutto dovete rimboccarvi le maniche e cambiare le cose altrimenti le piante e gli animali che popolano la terra diventeranno solo un ricordo ecco è un libro ecologista indubbiamente ed è da leggere proprio su questa su questa scia su questo pensiero di far sì che quello che oggi siamo abituati a vedere e a considerare ordinario non debba diventare straordinario o addirittura impossibile quindi di Steph FR il libro delle meraviglie perdute è edito dai magazzini Salani il suo costo è di 16,90 euro adesso ci trasferiamo e andiamo nell'angolo dell'autore ed eccoci nella zona dedicata all'autore con noi quest'oggi il professor Marco Sterpos buonasera buonasera allora io ho già anticipato il professore cerchiamo di conoscerci chi è Marco Sterpos e come si arriva e come è arrivato alla scrittura dunque io vengo dalla scuola soprattutto sono stato 44 anni nella scuola che non sono pochi sì 20 come insegnante gli altri come preside di scuola media però contemporaneamente alla scuola io ho seguito studi italianistica e pubblicato libri articoli di studi italiani su riviste pubblicati un buon numero fino a un paio di anni fa due anni fa due tre anni fa mi è venuta anche l'idea invece di passare alla scrittura creativa alla scrittura personale passare dai saggi dai saggi critici a nella scrittura d'invenzione ed ho pubblicato due anni fa un un libro di di memoria si può dire che ho intitolato Amarcorda una vita e dopo in seguito a questo un altro libro di cui magari si potrà parlare che è che ho intitolato il poeta la donnissima in generale che che nel quale viene raccontata romanzata la vicenda di amore di Giosuio Carducci con l'ina Cristofo rifiva e di questo entreremo nel dettaglio meglio la prossima puntata appunto ci sono arrivato così dunque alla scrittura e come concili come ha fatto a conciliare la sua professione con la sua passione giusta domanda perché quando insegnavo tanto io quando facevo il preside specialmente negli ultimi anni che il lavoro era diventato parecchio impegnativo c'avevo un istituto comprensivo quindi mi restavo tempo per gli studi critici però qualcosa riuscivo a fare lo stesso a ogni modo sicuramente io sono andato in pensione nel 2003 la gran parte delle cose che ho pubblicato ho pubblicato e dopo questo è chiaro quando la pensione mi ha reso libero certo certamente è stata difficile passare dal saggio dalle pubblicazioni letterarie alla scrittura creativa no direi di no perché in certo modo si continua nello stesso terreno specialmente l'ultimo libro se ne parlerà poi è narra questo episodio importante la vita di Carducci ora Carducci su Carducci l'avevo tanto studiato l'avevo già scritto molto quindi Carducci lo conoscevo buonissimo come uno di casa si può dire lui e quella questa Carolina Piva che era la sua amante quindi il passaggio è stato quasi inavvertito è stato quasi quasi inavvertito perché semplicemente in questo caso l'ho fatto diventare questa vicenda di Carducci un romanzo storico ecco ma ne parleremo appunto si si ne parleremo prossima puntata mi interessa invece sapere da professore e da autore anche ma soprattutto da professore cosa che consigli dà a chi si vuole approcciare alla scrittura creativa domanda non è facile però chissà quante volte lei ha fatto domande non facili ai suoi alunni oggi tocca a lei certamente non come si tanto bisogna avere avere il gusto per la lettura certo se no a chi non ha gusto per la lettura il discorso non si può rivolgere assolutamente bisogna essere prima lettori e poi scrittori esatto quanto poi a forza di leggere può venire voglia anche di scrivere e allora io cosa posso dire posso dire di leggere dei testi che particolarmente ti prendono romanzi soprattutto narrativa e poi provarsi a scrivere provarsi provarsi a a prendere diciamo lezioni da questi autori è come però è come andare in bicicletta bisogna alla fine bisogna andarci per poter provarsi in prima persona certo però secondo me ci deve essere un retroterra di letture ecco se non c'è molte letture anche i grandi scrittori ci sono arrivati sicuramente leggendo altri scrittori non c'è nella letteratura si può dire nulla di veramente totalmente inventato anche i grandi scrittori hanno preso spunto poi sviluppandolo in modo tutto originale naturalmente ma hanno preso spunto da opere di altri quindi anche chi comincia secondo me deve leggere prima cosa quindi non c'è nemmeno un'età per iniziare si può iniziare a qualsiasi età secondo me no io ho iniziato a quasi 80 anni la lettura non c'è non c'è un'età si può essere anche molto pregoci certo anche gli scrittori ce ne sono stati di precocissimi tipo Leopardi altri invece hanno cominciato anche invece molto dopo con una scelta abbastanza avanzata tipo a Sieri per dire può avvenire il momento opportuno può avvenire il bisogno si senta un bisogno evidentemente di scrivere il bisogno può sorgere a qualunque età bene professore io la ringrazio per questa puntata ci vediamo esattamente fra sette giorni per conoscere meglio proprio il libro di cui abbiamo accennato grazie al professor Marco Sterpos un salottino tutto al maschile non c'è Beatrice c'è Samuele con me per raccontarci ben due libri benvenuto Samuele ciao Fabio buonasera allora il primo libro di cui parliamo di cui ci racconti è di Gerard Thomas Gesù raccontato ai bambini capitalisti sì il titolo è molto particolare anche il libro è particolare lui è un economista aveva già scritto in passato testi della sua materia di economia anche rivolti più ai bambini uno l'aveva fatto sul comunismo sempre spiegato ai bambini capitalisti quella l'idea secondo me è molto intrigante lui parte lui è ateo però ci tiene subito a chiarire che questo non è un libro ateo ma laico nel senso che il messaggio di Gesù comunque è un messaggio che non è solo per i credenti ma è un messaggio che secondo lui ha molto da dire anche per chi non crede anche per chi è laico appunto non per gli atei perché comunque lui riesce a vedere in questo messaggio non parte dalla negazione del fatto storico di Gesù insomma se si è esistito o no questo a lui non gli interessa a lui gli interessa il messaggio che ha lasciato racconta proprio la vita di Gesù lui ha letto si è documentato non solo sui Vangeli ma ha preso anche i Vangeli quelli cosiddetti apocrifi che raccontano altri altri aspetti della vita di Gesù che non rientrano nei Vangeli canonici che la Chiesa ha segnato come parola di Dio insomma però ecco partendo da questi Vangeli apocrifi racconta la sua storia il messaggio che Gesù ha lasciato non si interroga sulle questioni appunto sulla sulla realtà storica del personaggio se Gesù è veramente figlio di Dio se Gesù è risorto se Maria ha concepito il figlio per opera dello Spirito Santo sono questioni in cui lui non si addentra proprio e lo dice chiaramente sono questioni che a me non mi interessano per quello che io voglio raccontare non mi interessa sapere della divinità a lui interessa il messaggio perché il messaggio è importante è importante per tutti lui dice per i bambini capitalisti perché perché lo chiama così perché la sua paura è che nel mondo d'oggi questo messaggio vada disperso perché lui parla parla un po' di tutta la vita ma poi si sofferma molto su quelle che erano le parole di Gesù quindi sulle parabole sul discorso della montagna le cosiddette beatitudini tira fuori quanto c'è di bello in quello che ha lasciato appunto per tutti lui Ateo si sente coinvolto da queste parole e si chiede ma se tutti in questi duemila anni avessimo ascoltato veramente queste parole indipendentemente dal fatto che crediamo un no in lui nella chiesa nei papi fa capire chiaramente che lui in tutto questo non ci crede ma se avessimo ascoltato veramente questo messaggio forse oggi vivremo tutti in un mondo migliore in un mondo in pace in un mondo non dominato dal denaro dall'essere dal voler essere a tutti i costi dal voler apparire per questo lui dice bambini capitalisti non è un libro per bambini è un libro che è scritto con un linguaggio molto semplice quello sì che può leggere chiunque quello che a lui interessa appunto è più sulla seconda parte capitalisti allora perché oggi non abbiamo accolto continuiamo a non accogliere questo messaggio quanto potremmo stare meglio tutti insieme se leggessimo con attenzione le parole che Gesù ci ha lasciato è una visione te l'ho detto un po' un po' particolare non aggiunge niente a quello che è stato detto e scritto su Gesù in tutti questi anni chiaramente però secondo me è interessante che un ateo un ateo scriva su Gesù che scriva su di lui e soprattutto che scriva della bellezza che lui ha accolto in queste parole non lo hanno non lo hanno fatto diventare un credente non l'ha convertito questo messaggio ma comunque lui dice che lo ha reso una persona migliore consapevole di quello quindi lo dedichiamo a tutti sia a credente che a non credenti sicuramente a tutti io l'ho letto con piacere chiaramente non dice niente di nuovo non è che ti aspetti un saggio di teologia magari una teologia per chi non crede quello sì ci può trovare qualcosa però io ho trovato interessante leggere il punto di vista di una persona che la pensa in un modo completamente diverso ma che poi in fondo trova in quel messaggio le stesse cose che ci vedo io insomma che ci può vedere qualcun altro perfetto allora di Gerard Thomas Gesù raccontato ai bambini capitalisti per le edizioni Clichy bene allora andiamo avanti andiamo a ruota libera perché siamo io e te come dicevo prima l'altro libro che ci racconti è Epidemia di Giacomo Papi cioè Epidemia mi fa un po' pensare all'epidemia all'epidemia sì sì perché questo è un libro pienamente nei tempi che stiamo vivendo che stiamo vivendo però ho voluto scegliere un testo ne sono usciti a centinaia che parlano di virus sì di virus da un punto di vista più medico più professionale più saggistico da un punto di vista romanzesco questo è un libro satirico ironico in cui si ride dalla prima all'ultima pagina lui già l'anno scorso è riuscito con un testo molto divertente che si chiamava Il censimento dei radical chic sì l'abbiamo anche presentato e l'abbiamo anche presentato e devo dire che questo secondo me è molto azzeccato riesce a parlare della situazione di oggi lo fa con un tono molto leggero però che comunque ti fa anche ci sono anche degli spunti degli sprazzi in cui ti fa riflettere il protagonista di questo libro è un giovane un rider ormai tutti sono diventati rider la professione è quella anzi in questo mondo perché qui è diciamo anche un po' futuristico nel senso non è ambientato proprio ai giorni di oggi la base di partenza è quella ma siamo più avanti ci sono già alla fase 41 del virus perché il virus continua a esistere a evolversi non hanno trovato il vaccino quindi sono tutti chiusi si alterano periodi di lockdown a periodi in cui si può uscire ma può uscire solo pochissime categorie di persone non lavora quasi più nessuno a lavorare sono rimasti chi fa smart working chi produce le cose e i rider che sono la stragrande maggioranza e lui fa i rider per una multinazionale che è nata con questo virus una multinazionale che distribuisce psicofarmaci perché per tenere sotto controllo la popolazione ormai imbufalita imbestialita bisogna ricorrere a psicofarmaci tranquillanti calmanti sonniferi devo dire che però è una leggerezza è un'ironia una satira e veramente ti fa la leggi piacevolmente perché comunque è un libro intelligente quindi non è non è una presa in giro non è una presa in giro anzi appunto quelli che alla fine risultano presi in giro in questo libro sono chi personaggi anche nel mondo nostro ora reale stiamo vivendo chi il virus lo nega o lo sottovaluta ci sono appunto dei chiari riferimenti alla realtà del mondo d'oggi e appunto i negazionisti ma non solo anche due o tre personaggi politici che sono non fa il nome ma si capisce chiaramente insomma la situazione di chi si sta parlando o si può intuire addirittura i ministeri hanno cambiato nome in questa situazione perché per fare un esempio il ministero degli esteri non esiste più perché non potendo muoversi non ha più senso quindi è diventato un ministero degli affari interni ma degli affari propri cioè il ministro degli affari suoi ognuno si fa che il ministro si fa gli affari o Di Maio che si fa i suoi affari quindi quello è un esempio ma il ministro della salute anche quello ha cambiato nome un po' tutto ha cambiato e noi si diciamo tra una avventura una disavventura di questo personaggio di questo giovane che comunque amareggiato perché deluso chiaramente dalla vita perché non si capisce da quanti anni questa situazione sta andando avanti ma appunto essendo la fase 41 vuol dire si intuisce che sono un po' d'anni già diversi anni lui ha tutte le rinunce a cui ha dovuto fare sullo studio sulla socialità non ha mai avuto una ragazza ci sono i primi approcci ma sempre legati dietro le mascherine non conosci i volti di chi hai di fronte perché non li hai mai visti senza mascherina diciamo un libro consigliato per rilassarsi un attimo non dico farsi due risate perché è brutto perché non si può fare due risate su questa cosa però prendersi un po' di quello sì di pausa dalla situazione che stiamo vivendo leggerla in un modo diverso tirarsi un po' su d'animo anche se appunto la base lo sfondo rimane rimane serio e quindi di Giacomo Papi Epidemia è edito per Feltrinelli io ti ringrazio grazie a te io ti congedo saluto virtualmente Beatrice che ritroveremo ovviamente nelle prossime puntate e noi andiamo avanti con un'altra mia recensione eccomi nuovamente qui e questo è il libro che vi racconto adesso di Thea Ranno Terra Marina allora siamo alla vigilia di Natale protagonista un libro corale è questo protagonista principale è Agata detta da tutti la tabacchera Agata è la sindaca di un paesino siciliano arroccato sul mare è una vigilia di Natale triste per Agata perché ha perso da quattro anni il marito e sente più che mai la sua mancanza ma non è l'unica mancanza che sente anche se magari non vuole nemmeno ammetterlo a se stessa ma da quando un certo maresciallo di Torino ha lasciato la Sicilia sente sempre più spesso la necessità di vederlo di sentirlo di parlarci Agata ha chiesto a tutti i suoi amici di essere lasciata sola in quel Natale ma sarà Don Bruno a sconvolgere questo Natale perché a un certo punto della storia entra in casa della tabacchera con un fagottino un fagottino tutto sudicio è una bambina una bambina di poche ore di vita che Don Bruno ha raccolto vicino a un cassonetto e subito questa bambina trasforma l'idea del Natale che Agata si era fatta perché sia lei che i suoi amici vengono travolti da una serie di sensazioni luce è questo il nome che daranno alla bambina porta nel loro Natale la vera realtà del Natale porta colore porta amore porta canti gioia ma porta anche delle domande chi sarà la mamma che ha lasciato questa bambina nell'angolo vicino a un cassonetto come mai avrà lasciato questa bambina da sola e soprattutto cosa si deve fare di questa piccolina che ha già conquistato il cuore di almeno sette madri e di almeno cinque padri questo è il racconto ed è quello che si chiedono appunto durante la trama del libro di Tearanno Terra Marina è edito per Mondadori e il suo costo è di 18,50 euro allora prima dei saluti il consueto riepilogo dei libri di questa puntata ho iniziato io con Steph e Fer il libro delle meraviglie perdute edito da magazzini salani il suo costo è di 16,90 euro poi nel salottino Samuele ci ha parlato del libro di Gerard Thomas Gesù raccontato ai bambini capitalisti e delle edizioni cliché il suo costo è di 15 euro sempre nel salottino e sempre Samuele per il Giacomo Papi Epidemia edito da Feltrinelli il costo è di 15 euro e pochi minuti fa io qui nella mia zona nel mio angolo comfort di Tearanno vi ho raccontato Terra Marina edito da Mondadori il suo costo è di 18,50 euro ecco questi sono i libri di cui abbiamo parlato in questa puntata stanno nel palmo della mia mano sono solo quattro ma il catalogo della libreria La Parola è veramente molto più ampio pensate che entrando all'ingresso troviamo tutte le novità e ai lati i sempreverdi e i saggi proseguendo troviamo la letteratura a carattere religioso e per finire qui nella zona dove noi registriamo troviamo i libri dedicati ai nostri bambini quindi un catalogo che vi permette veramente di trovare il libro giusto al momento giusto il libro che vi va di leggere proprio quando avete voglia di quel tipo di libro se invece avete un'idea precisissima cioè avete già in mente il titolo che volete acquistare e in quel momento non c'è non dovete preoccuparvi perché il libro vi viene ordinato tre o quattro giorni a secondo dell'autore della casa erettrice il libro arriva qui voi ricevete una telefonata e venite a acquistarlo e poi ve lo leggete comodamente a casa vostra nel vostro divano nella vostra poltrona a letto prima di dormire perché come dico sempre leggere fa bene e leggere fa bene ovunque che dirvi ancora i nostri mezzi social come fare a rimanere sempre in contatto con Word il gusto della parola ovviamente la prima la prima pagina è la pagina Facebook della libreria la parola la pagina Facebook di Valdarno Channel la mia pagina Facebook e anche la mia pagina YouTube lì trovate tutte le puntate che sono andate già in onda proprio anche per così per avere un ripasso fra virgolette di quello che abbiamo già raccontato qualora vi siate persi la puntata in edizione originale detto questo non ho altro da aggiungervi che veramente venite alla libreria La Parola in Corso Mazzini a Figline Valdarno perché sarete sicuramente soddisfatti del libro che vi verrà presentato o del libro che state cercando detto questo io ringrazio Nicholas che è stato dietro la telecamera e ci rivediamo la settimana prossima in collaborazione con Libreria La Parola un libro per ciascuno di noi Libreria La Parola Corso Mazzini Figline Valdarno Per ciascuno di noi